50 persone sono indagate per vendita di sostanze dopanti e supefacenti all'interno di palestre e di furto di carburante in tutto il nord Italia. I carabinieri del NAS di Torino, coadiuvati dai colleghi di 11 province, hanno eseguito le ordinanze di applicazioni di misure non detentive, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora emesse dal GIP presso il tribunale di Novara. I 50 indagati sono accusati a vario titolo di furto, ricettazione, commercio illecito di anabolizzanti, in parte supefacenti e farmaci pericolosi per la salute pubblica. Le indagini sono state avviate dal NAS di Torino nell'ottobre 2016 a seguito di controlli congiunti con l'Agenzia delle Dogane su plichi sospetti provenienti dall'estero contenenti prodotti farmaceutici. Ne è emersa una rete di approvvigionamento e distribuzione a dettaglio di sostanze anabolizzanti e dopanti, vietate, destinate a frequentatori di palestre e addetti alla sicurezza presso locali di divertimento.